Casa gratis per i prossimi tre anni. Gli ultra settantenni inquilini delle case Aler in regola con l'affitto da almeno cinque anni con un ISEE sotto i 10 mila euro non pagheranno il canone di locazione fino al 2021. Per il primo anno la regione ha stanziato 4 milioni e mezzo di euro per 5 mila beneficiari, 12 milioni per i due anni successivi. Noi pensiamo che mentre Fontana e Bolognini fanno le loro passerelle elettorali si stiano perdendo di vista quelli che sono i reali problemi dei cittadini delle case popolari. A nostro avviso bisogna intervenire al più presto sui servizi, sul decoro, sulle manutenzioni.